Perché è così difficile cambiare da soli? Ciao, sono Enrico Fonte, sono un terapista, un trainer e un coach. Questo tutorial è il numero zero e serve da introduzione ai nostri corsi a Berlino o online e sull'amor proprio, l'amore relazionale e il senso della vita. Questo video è una forma di ripasso per i nostri clienti a Berlino o online. Se non dovessi essere nessuno dei due e dovesse piacerti il contenuto di questo video, puoi aiutarci nella produzione di ulteriori video facendo una donazione per Paypal. L'indirizzo lo metteremo nei commenti. Vediamo perché è così difficile cambiare da soli. Abbiamo tre ragioni principali. Il primo di essi è la comfort zone. È molto difficile che si lasci da soli la propria zona di comfort. Siamo tutti abituati per natura a cercare di risparmiare le nostre energie, il che significa che cerchiamo di tenerci in una zona in cui siamo in sicurezza, in cui tutto o comunque molto sia prevedibile e si possa ripetere. Questo si fa appunto per motivi di risparmio energetico. Una nuova situazione, un nuovo cambiamento, porterebbe tutto un processo di assestamento che energeticamente è molto stressante. Quindi si preferisce paradossalmente rimanere nel vecchio, che magari è insoddisfacente o fa addirittura male, piuttosto che rischiare da soli di barcamenarsi nel nuovo. Il compito di un terapista, di un coach o di un trainer o di un maestro spirituale è quello di appunto spingerti più o meno dolcemente, a seconda delle scuole, nella zona di crescita, che è la zona successiva. Lì appunto tutto quello che avviene è nuovo, è sconosciuto, quindi fa un po' paura, ma è anche eccitante. Ovviamente dosare questa spinta, vedere come ognuno riesce a gestire il proprio cambiamento è una cosa piuttosto difficile. Spesso nel tentativo di andare nella zona di crescita si finisce nella zona di panico. Cosa succede nella zona di panico? Questo cambiamento era troppo per il momento o in generale. Bisogna o avere pazienza, riuscire a calmarsi, a ritornare nella zona di crescita oppure ridurre la misura del cambiamento. Questo avviene quando c'è qualcuno che da fuori sta monitorando il tuo cambiamento e quello che da soli normalmente succede è che si rimane semplicemente nella zona di comfort. Magari ci si propone un nuovo obiettivo, conoscerai sicuramente per la dieta, se hai cercato di smettere di fumare o abbandonato qualche vizio o qualche abitudine, si rimane motivati per un po', dopodiché o si rimane costanti in quella trasformazione e senza crescere e migliorare ancora la propria vita, oppure si torna indietro ai vecchi pattern, ai vecchi schemi di vita che avevamo. Ci colleghiamo subito al secondo motivo per cui c'è bisogno di una persona esterna che aiuti o faciliti il cambiamento ed è il feedback. Quando stai cercando di cambiare da solo, ovviamente da sola vedi le cose dalla tua prospettiva, come è normale che sia. Una persona esterna e competente è in grado di darti un'altra prospettiva. Quest'altra prospettiva ti farà capire la differenza, per esempio, tra un'osservazione quasi oggettiva e le tue credenze. Con ciò ovviamente non voglio dire che un trainer, una terapeuta, un maestro, una maestra siano persone obiettive o ci sia una pretesa di obiettività. Ti voglio semplicemente dire che due sguardi sulla stessa direzione danno una maggiore approssimazione alla realtà rispetto, ovviamente, a quello di uno solo. Un feedback può essere anche duro e, ovviamente, come abbiamo detto prima, può portare ad andare nella zona di panico o, se il feedback è stato azzeccato nella misura, nella zona di crescita. È molto difficile, se non impossibile, darsi feedback da soli, l'avrai visto nel tuo lavoro, è importantissimo, è preziosissimo la critica costruttiva che può venire soltanto, appunto, da una persona che non è direttamente interessata ai fatti, come può essere una persona esterna. La terza ragione è molto simile a quella del feedback ed è che si cresce soltanto nella relazione. Che vuol dire? Vuol dire che uno dei motivi che stoppano il cambiamento e la crescita è che non si entra veramente più in relazione con gli altri, ma si entra in relazione con ruoli. Questi ruoli, si ripetono, vengono spesso dall'infanzia o dalla prima adolescenza in cui si cristallizzano delle credenze. Se ti sei sposato o sposata più volte, avrai visto questo meccanismo. Spesso la moglie e il marito cambiano, ma il ruolo essenzialmente che prendono nella vita è lo stesso. Quando entri in una relazione terapeutica o in una relazione discepolo-maestro, per quanto riguarda la spiritualità, abbiamo un altro tipo di rapporto. Difficilmente un esperto terapeuta o un esperto coach si lasceranno incastrare nelle tue credenze e ti daranno un feedback, ancora una volta, reale di un altro tipo di relazione, una relazione più veritiera, dove potrai analizzare le differenze fra le tue credenze, la tua coazione a ripetere, i pattern che ripeti, gli schemi esistenziali che ripeti e un altro tipo di feedback. Il feedback di una persona che magari sta al tuo gioco in modo di farti poi analizzare e vedere cosa stai creando e in quali tipi di loop entri nella vita e cercare, soprattutto attraverso la consapevolezza, ma poi anche attivamente, di trasformarli. Questo tipo di relazione è impagabile per il semplice fatto che negli altri contesti una relazione, rispetto a una relazione di amicizia o una relazione di lavoro, anche sentimentale, il terapeuta, coach o maestro non dovrebbe essere interessato, quindi potrebbe darti una forma di amore disinteressata che è appunto quella che dovrebbe avvicinarsi più che altro all'amore materno e paterno, situazione ideale che quasi nessuno di noi ha avuto di amore incondizionato. Questa, insieme all'analisi e alla ricostruzione dei propri modelli di vita, questa nuova esperienza di un amore disinteressato è appunto quello che porterà a fare emotivamente e anche cognitivamente, quindi mentalmente, delle esperienze nuove. Si capisce, una relazione, per quanto possa essere terapeutica, per quanto possa essere professionale, è sempre una relazione, quindi ci sono in ballo dei sentimenti da entrambe le parti, non sempre questi sentimenti saranno positivi, ci si può litigare, ci si può non capire, e la cosa più importante è quella di, per quanto mi riguarda, mantenere la relazione nel tempo in modo da vedere cosa succede se si va, appunto, oltre le proprie credenze, oltre le proprie strategie, se si può riscrivere la storia, per così dire, in un altro modo. Ovviamente, nessuno può cambiare il passato, ma attraverso il vivere nel presente, tutti quanti possono cambiare il proprio futuro. Bene, questo era tutto, io ti ringrazio, se lavori con noi, spero che questo ripasso ti sia stato utile, utile se hai voglia invece di supportarci per la creazione di nuovo materiale, tutte le informazioni le trovi nei commenti, insieme, se vuoi lavorare con noi, il nostro sito web, anche nei commenti, si chiama www.bodymindtherapy.de Di default va in tedesco, dove ci troviamo, a Berlino, e poi puoi ovviamente cambiare la lingua. Vuoi ricevere i video per email? Abona la newsletter e il canale, ovviamente. Abbiamo anche dei gruppi Facebook su cui ci scambiamo, tutto lo puoi trovare nei commenti. Io ti ringrazio per la tua attenzione. Namaste. Namaste.